guarda 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 ben buon l'altro è il primo si è fatto presto se è finito la mano se è il caldierone da questo lato te l'ha visto Daniele che emozione guarda tutti i numeri come arriva il numero il secondo il primo e il secondo il termino io guardo guarda anche me e poi lui fa la foto e la foto 500 500 no? si esattamente signora proprio quese dal punto di vista cardiologico non sei il massimo no la barca di claudio che se quei che doveva essere in acqua 7 che invece sei in mezzo no se quella è la barca di cumming e compagnia che doveva essere in acqua 7 i gavi rubato mettendosi in mezzo claudio cumming eccetera c'è acqua numero 7 si è claudio come l'anno scorso secondo e terzo quattro secondo si è quattro 2 e poi poi quella più esterna che dovessi essere con l'uno uno perché è poco furbi poi quattro e poi no adesso è l'uno quindi che boh vedremo dopo vedremo dopo i anche voi non vedete si no perché allora barca in legno istria dove potessi sangiusto sangiusto ma perché sei a formare no ma sei a formare prima dell'arrivo si va bene allora il primo io ero di cumming e la sette per paio la cumming si e questi se con calma lo presti e questo se con calma lo presti la numero? questa è la numero tre se è zechin per? se è bruno no non se è zechin zechin non se è su questa grandi lo presti bravissimi